E' arrivato nono Sì, penso di sì No, devi premere quello là Ok, adesso è acceso, adesso che è rosso è acceso Ciao, sono il casted Finalmente siamo in due Ciao Ok, inizia Ducato delle spade Cosa ci dici? Tu sai come funzionano i miei commentary Che non commentiamo mai il set attuale Perché è poco divertente Cioè, alla fine la gente lo sta guardando Cosa devi dire di più? Cioè, lo stai guardando? Cosa ti devo dire? Eh, no, sai Sì E quindi la mia domanda è A prima di tutto se vuoi ho tanta acqua Quindi se vuoi Tranquillo, io ho ancora un'altra bottiglia piena Va bene, va bene E poi come ti sei sentito a giocare in CineRor E aver vinto questo set di prima? Ma io non voglio parlare del mio set Io voglio parlare di Mirko contro Yolt Ciao Ma che noia, cioè Ma cosa vuoi da me? Io sono venuto qua per commentare E anch'io Uh, madonna E niente Questo è un set Ma c'è Sebastian Gafita che si sta guardando League of Legends Mentre fa Smash Brothers Dicevamo Dicevamo Cosa dicevamo? Dicevamo di avvicinare Sento che non è mai andato bene per Yolt questo Yolt penso che sia tipo 06 contro Mirko Lifetime Sì C'è da dire però Oggi Oggi si è dato sopra 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 Che dicevamo tra l'altro nel set di prima E Mirko è effettivamente si è dato sotto Yolt Per Il risulto fuori da questo effettivamente set specifico Esatto Vediamo se questo Nello specifico Yolt ha proprio fatto molto all'ultimo torneo qua a Milano Un vero secondo Il nazionale Eh sì, il nazionale praticamente E Mancava solo cazzo di forze O se veniva forze era proprio un banger Tweet Saluto a forze che ci segue sempre da casa Ciao David E niente Purtroppo Yolt si trova nella situazione in cui Gioca Roy e Ness Ness ha un matchup tragico con Lucina E Roy un matchup che Mirko storicamente ha sempre giocato molto bene Perché chiaramente Expo con M4E Ex Roy Main Tanto che sta facendo Mart Forever adesso Io non lo so Però Spero bene C'è tipo Raga Se qui Su Twitch.tv Avete nella chat Oh minchia bel counter Un posto dove tipo Premere e andare a vedere cosa stanno facendo gli italiani all'estero Questo weekend Mi fate un favore Perché sono curioso È morto E di base questo è il problema di Yolt contro Mirko Che Mirko Avendo tutta questa esperienza contro Roy È molto bravo a punire Roy negli spot in cui appunto soffre Nelle debolezze del personaggio C'è Ring on Steam Merda Per cui sì Non è messo molto bene a livello proprio di line up Yolt È molto Basta A parte che ha tirato fuori una Mart Side B Lookiness Sì Ha ritardato Ha ritardato il Side Base Come si chiama il turno europeo? Non lo so Il Glory Il Glory Eh comunque Da quel che abbiamo visto negli scorsi set Comunque nonostante tutto Yolt preferisce Giocare il match up Su cui Mirko ha molta esperienza Rispetto al match up Che è effettivamente Un counter Diciamo Un self counter Sì Decisamente sì Però magari vediamo qualche altro personaggio Alla fine Yolt è un po' Yolt è sicuramente un giocatore che sa giocare tanti personaggi Anche se il turno ne gioca due tendenzialmente Vincere Roy E vince Io mi aspetto che te da noi Io non mi aspetto che prenderai insieme Roy Twitch.tv Oh no ho perso la chat nostra Beh Sei un genio Sono un genio Dai Tolu Dai Ike Bene Tornando a noi Una zero per Mirko Secondo te Ranou Cosa vuol dire Non ho idea Io ho dovuto spiegare la tua tag Spero di averla azzeccata Cosa hai detto Che era Venice Beach Sei bravo Hai visto Orca puttana Me li ricordo Ma dove l'ho preso Comunque Yolt è Malgrado giochi di personaggi Che tipo Boh Alla fine Hanno tanta mobilità E' molto bravo a tenersi il doppio salto Perché Ce l'ha praticamente sempre Ogni volta che esce Non lo usa praticamente mai Eh sì Cioè forse qui doveva usarlo ad esempio Per evitare il counter Proprio super free Io lo dico Il problema di questo set È che Nonostante Roy sia sicuramente un PG Molto più esplosivo di Lucina Mirko riesce sempre a capitalizzare Sui lit Meglio di quanto Yolt riesca a fare Al contrario Eppure Si presenta mentre lo dice Fa un 6b e muore a 60 Benissimo Che disgrazio Vediamo se riesce a Continuare a farlo Sì E il punto è che Questo matchup Io ovviamente non gioco Ne sono i miei due personaggi Però l'ho sempre visto come Abbastanza evenish Perché comunque Appunto Doi è esplosivo E si fa esplodere da Lucina Che invece diciamo È più Contro tra i due personaggi L'ho capito È Fraglio Shadowhiles Non è Fraglio Shadowhiles Non è Fraglio Shadowhiles È più tipo Piltover No Sì Piltover Noxus Ma non è vero Piltover Noxus è tipo Samus No Intanto qua Mentre noi diciamo le cazzate Yolt Sta recuperando Sta riuscendo Effettivamente a Adesso va salto neutral B Io e mio fratello lo conosco No bra Però era sta cosa È ripe È ripe Onestamente è ripe Quindi per il content Secondo me ci sta per tenere il momentum Non voleva dare la chance a Mirko Di prendere la stock Perché prendendo la stock Mirko Avrebbe ripreso il momentum Invece togliendosela da solo Sembra proprio Quello che va nella testa Dell'insenerore migliore d'Italia Devo ammazzarmi con Style Beh Sta di fatto che È stato creepato epicamente Dallo Spike Mi sembra che il momentum shift Ci sia stato comunque Quindi Eh no Perché alla fine c'è Nel momento in cui Lusina va in mezzo Ovviamente non era serio Il discorso di prima Ma come no Stavo cercando di dare un Io ero già pronto a farmi Spike su Side La prossima volta Zero per Siento Per tenere il momentum Mi dispiace I fili Non ascoltare il mio coaching No Vabbè Vabbè è morto E qua Continua la situa Che forse forse Il seed sopra Non gli dà questo vantaggio Nel set Perché Il punto è che Alla fine giocando Ness Queste cose succedono comunque Cioè quella è la parte tutta Del matchup con Ness Ma matchup contro Mirko Perché alla fine Lusina Copre tanto Quello che è Yolt Adesso in questo momento Soprattutto Lusina Con una grande esperienza Su Roy Come me Sì Come il nostro Io glielo dico sempre a Yolt Infatti lui si adabbia sempre con me Perché Giustamente ha fiducia nel suo Roy Però secondo me a volte Potrebbe Switchare Più spesso No sì Decisamente sì Infatti Boh ormai Praticamente è un OTP Questo Mi sembra un po' esagerato Ma io Non lo vedo Su Ness Davvero davvero tanto Quindi Cioè Quando è stata l'ultima volta Ha fatto un set Buono Oggi ha giocato Ness Oggi ha giocato Ness Contro chi? Contro Kremisis Mi pare Allora L'ultimo torneo Ho fatto Ness Contro NFL No sì Ecco questa è la cosa Però vabbè Sì è un pocket ormai Diciamo main Roy Ma cioè Lui non la vede così Cioè lui si vede ancora con main Però semplicemente Ci sono molti più matchup Specialmente qua a Milano In cui si trova meglio con Roy Ed è comprensibile Perché comunque cioè Ovviamente Roy va meglio Di Ness contro Lusina Sì Questo Direi che è sacrosanto Però comunque stragla 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 tanto Stragla Ha scelto di andare su FD Di nuovo tra l'altro Ah non ci avevo fatto caso prima Ups Mi chiedo Mi chiedo se effettivamente Non dovrebbe Cercare di Concentrarsi di più Sull'advantage state Perché secondo me La parte problematica Appunto continua a essere Che Mirko appunto Touch of death Ha Io oltre Non il contrario Ma allora Da quello che Si è pigliato Una quantità di counter Incredibile Da parte di Mirko Ti dirò Che effettivamente Sta lì Se stai giocando Una spada Contro Mirko Quella grab Peccato Quella era un Nike grab Polesemente Nike grab Se stai giocando Una spada Contro Mirko Devi stare attento All'edge Perché quello lì È il posto Dove ti fa il culo Madonna Schiaffone in farcia L'ha trovato Impreparato qua Sul The spawn Grande Toluca Ha vinto game 1 Comunque bravo È comunque game even qua Eh no sì È even Ma siamo sempre Al concetto Iniziale Ovvero Cioè Chi dei due Tocca l'altro Alla fine Chi dei due Mette in disadvantage L'altro vince Lo stock Il punto è che Mirko Sta restando Tanto in disadvantage Mentre Yolt Muore subito Sì Cioè Mirko riesce a ammazzarlo subito Però Fatemi dare un abbraccio Al nostro caro Magoman Alla prossima Ciao Magoman Alla prossima Alla prossima Saluto Mago King Che c'è un cappellino incredibile oggi Tra l'altro E intanto Lusina Sicuramente kill percent Uh Questa smash Bella questa punish Ovviamente Fsmash Li avrebbe killato Però Up smash Coverava il Cross up Slash non cross up Sì E lì è una situazione difficile Perché Cioè Cosa fai Ti continui a scudare No? Ti devi rendere conto subito E fare counter Probabilmente Madonna Oppure fare un bel perfect shield E spegni Mirko Perché vola tipo O dai fai spot dodge Semplicemente No? Ma lo spot dodge Non è hype Federico Dai Scusami Hai ragione Cioè qua si gioca per il content Non so se l'hai notato Oh Yolt lead No Pensavo Chiedo scusa Non ti permettere mai più Qua potenziale Ultima stock Della winners Per Yolt Che Sono sicuro che A prescindere dal set record Abissale Contro Mirko Non sia soddisfatto Di sicuro Di una performance del genere No poi soprattutto Soprattutto subito dopo Sì No Il pop off Diciamo Allo scorso torneo E Mirko però Chi l'ha eliminato L'ha eliminato NFL E Wage E Wage Quindi Mirko è felicissimo Di in caso Vincere questo set E non avere contro Wage E NFL Non c'è Però Chissà Lo vedremo dopo Chi diverte Che ne pensi Ma io sono sicuro Che lo vedremo dopo Perché Oh madonna Soprattutto Mirko Non è Il più agile Contro i Vabbè Non parliamo della winner final Magari adesso Come back Never mind Non come back Non penso Ma T'erro Mirko GGs E questo Blocco Insormontabile Sembrirebbe Giolder deve inventarsi qualcosa Per la prossima volta Che giocheranno Che potrebbe benissimo Essere un altro personaggio Conoscendolo Ma io Sono sicuro Che Giolder sia Cioè Che Che Roy Possa battere Mirko Cioè No quello certo Però Non è il player Più forte al mondo Mirko Ovviamente Magari